Il commissario del credo che i Fiannazzurri si trovano in fronte a un video, diciamo, in apertura della nostra telecomunica. Ci possiamo stare a questo, diciamo, di un po' anche nel livello proprio di strategia di partita. Perché è scusato con le versioni unico che si trovano a UMA, in 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 UMA. Grazie a tutti. 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 Sì! Si fa una riccazione. Poi l'ha detto, ha cercato questa giocata, c'è un portato spolato. S'è un portato, il secondo palco, il grande vicino non punga niente. E' come un momento, gioco su un canale che si fa un po' di sveglia. E' come, a me, a me, a me, in un'altra chiesa fuori i Berardi, immaginiamo... eh sì! ...fora le 11 fuori i Berardi, in un'altra chiesa, era stato premato come due capo di un'unica partita, con il senato, con il senato, e poi Ciro Immobile, al suo posto, un grande amico, Andrea Bellotti. Tanti applausi per Ciro Immobile. ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.